Ci sono le istituzioni, moltissimi sindaci, più di 30 sindaci della fascia ionica che hanno ufficializzato l'adesione, ma molti altri. C'è un movimento sociale di tutta la costa ionica per rivendicare non solo la salvaguardia della ferrovia, ma addirittura il suo rilancio su livelli standard e dignitosi. Noi vogliamo una ferrovia che sia veramente a misura di cittadini. Sappiamo quanto sia difficile muoversi in Calabria. Cominciamo dai treni. Non stiamo chiedendo grandi risorse o spese faraoniche. Vogliamo però anche un equilibrio, vogliamo giustizia. Non è possibile, per esempio, che si vestino i cittadini. Se uno sale a bordo del treno e non ha trovato modo di fare un biglietto, gli si applica una sovrattassa di 5 Euro. Fatto un biglietto di 2 Euro, una sovrattassa di 5 Euro è evidentemente una iniquità, un'ingiustizia che la Regione non può accettare dalle ferrovie. Noi rivendichiamo correttezza, equilibrio, dignità. Il nostro è un assalto pacifico al treno. Ci stiamo mobilitando oggi su tutta la ionica. Vi sono cittadini che stanno rivendicando questi diritti. Lo abbiamo fatto con un documento che abbiamo chiamato dossier tecnico, che è stato inoltrato ufficialmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiediamo alla Regione e al Ministero di considerare questa fascia ionica come una fascia che necessita di interventi prioritari. Non abbiamo bisogno di 8 miliardi e mezzo, come si richiede per il ponte sullo stretto, una cattedrale nel deserto. Noi vogliamo servizi su misura, avere dei treni locali che funzionino, di qualità, con una frequenza opportuna. Treni locali e treni rapidi, perché per andare a distanze più elevate bisogna assumere anche dei treni rapidi. Vogliamo la continuità, vogliamo poter arrivare a Bari con un treno come facevano i nostri nonni. Vogliamo riprenderci i treni che ci hanno sottratto, più di 20 treni, per andare dalla Calabria a Milano a Torino. Non accettiamo l'idea che i nostri ragazzi, i nostri anziani salgano su un autobus e facciano 15 ore di viaggio chiusi come dei polli in un autobus in ospitale. L'autobus va bene per 100 chilometri, non per 1.000-1.500 chilometri. Queste sono le cose che chiede la gente. La ionica sta riacquistando dignità, ha alzato la testa, continuerà. Noi vinceremo questa battaglia, che chieste ne dico. Una delle prime cose che abbiamo chiesto è l'acquisto di 15 treni di nuova generazione. 15 treni costano 60 milioni di euro, l'equivalente di 2 chilometri di autostrada. Ci dessero le cose semplici, se cominciamo col piede giusto la Calabria può risorgere. Poi toccherà naturalmente ad altre tipologie di intervento, pensiamo all'intermodalità, al traghettamento sullo stretto. Una motonave costa 8 milioni di euro, comprare 4 motonave significa risolvere già il problema del pendolarismo tra Messina e Reggio Calabria. Con 4 soldi, poi se vogliono fare il ponte lo facessero pure, ma intanto prima che finiscano il ponte ci diano le cose elementari. Un treno costa 4 milioni di euro, qui li fabbrichiamo a Reggio Calabria e invece viaggiamo ancora con dei treni vecchi. Eccezionalmente stamattina abbiamo un minuetto, ma normalmente abbiamo delle ALN di 40 anni di età. È ora di finirla, siamo cittadini come tutti gli europei, meritiamo un trattamento pari, non chiediamo privilegi, a quello degli altri cittadini europei. Cominciamo da qui. In nessun paese della comunità europea si paga una sovrattassa di 5 euro se si viene ritrovati senza il biglietto. Qui le biglietterie non funzionano in nessuna stazione, le macchinette spesso sono guaste o non ci sono. Se si va a cercare un biglietto spesso i tabacchini non si trovano, se si va di sera meno che mai, poi salgo a bordo e mi trovo il ferroviere Zelante che per ordine dei suoi capi deve farmi la sovrattassa. Non è accettabile, stanno mettendo contro i ferrovieri con i cittadini, noi invece questa divisione non la vogliamo. Noi i ferrovieri sono dei lavoratori, sanno benissimi i disagi che stanno vivendo i cittadini e sono con noi. Sono i loro capi che hanno delle responsabilità e devono cambiare registro. Se non lo vogliono capire con le buone lo capiranno con i tavoli tecnici, con le dispute, con la dialettica politica se sarà necessario. Se uno pensa al turismo, perché parlano tutti di turismo, ma come fa un cittadino a venire sulla Ionica quando non ci sono treni o sono dei treni di cui vergognarsi? Quando scendendo in una stazione la si trova chiusa con le inferriate o cementificate? Come si fa a parlare di turismo quando, se uno arriva in un aeroporto o arriva alla Mezzia, non sa come raggiunge la fascia Ionica? Come facciamo a parlare di turismo quando mancano gli elementi minimi e essenziali per una mobilità sicura? Come facciamo a parlare di turismo quando a una certa ora i treni spariscono d'estate come d'inverno e quindi uno non può continuare il proprio viaggio? Non ha senso, allora rimbocchiamoci le mani, assumiamo le priorità, le priorità sono queste, sono piccole cose che richiedono risorse tutto sommato limitate, partiamo da queste cose. Poi Renzi faccia anche l'inaugurazione del ponte, ma ci vorranno non meno di 15 anni, ammesso che si cominci oggi a rilanciare l'ipotesi. Se noi nel frattempo che facciamo? Moriamo? Non accettiamo questa logge, quello è fumo negli occhi con finalità politiche elettorali. Noi la politica la immaginiamo con la P maiuscola, al servizio dei cittadini, facciano politica a chi vuole farla, termine, dimostrino che non stanno lì attaccati a delle poltrone per 40 anni. Quando uno fa politica sul serio e si batte per i diritti dei cittadini dopo due legislature talmente stanche che va a casa, evidentemente qui ci sono politici che non si stancano mai di occupare poltrone e ora di dire anche a loro o cambiate registro o vi manderemo a casa. Noi a Oliverio abbiamo chiesto una cosa, che vada a Roma dal ministro del Rio anziché fare spallucce, sorrisi, batte il pugno sul tavolo e dica così come hai fatto un accordo di programma quadro con il governatore della regione Veneto per un miliardo di euro per ripristinare una ferrovia storica, la ferrovia delle Dolomiti che sono quattro binari abbandonati, noi vogliamo essere trattati alla stessa stregua e anzi meglio perché qui c'è un milione di abitanti che ha bisogno di questa ferrovia, queste cose dovrebbe fare il governatore, non ci accontentiamo delle briciole, noi ci teniamo alle aree interne e sappiamo come sono spopolate. Una delle cose che potrebbe fare per le aree interne per esempio è moltiplicare il numero di corsa degli autobus, anziché far viaggiare gli autobus in concomitanza con i treni, in parallela ai treni, in concorrenza ai treni e sono pagati due volte i servizi perché paghiamo sempre noi della regione, sia i treni che gli autobus, il treno funzioni meglio, sia più frequente, più appetibile, più attraente e gli autobus li spostiamo mare-monte, queste cose le ha dichiarate l'assessore Musmano all'atto del suo insediamento, salvo poi a non parlarne più, a dimenticarsi di queste cose, provate a chiedere a Musmano che ne è del suo piano di integrazione a Pettine, perché ha abbandonato quello che ha dichiarato all'inizio? Queste sono le cose che vorremmo sentire. Grazie. Buongiorno, grazie a voi per la collaborazione che ci date nel far veicolare questo messaggio di speranza. Melito oggi questa manifestazione che un po' si sta ripetendo in tutte le stazioni della fascia ionica, stazioni che sono in totale abbandono, rappresentano un degrado non più sopportabile, ma stazioni che invece devono rappresentare e sono un volano di sviluppo per quello che devono offrire e che devono dare come servizio. Non è più possibile, è questo quello che va sottolineato, che a Melito e nella tratta ionica ci siano pochissimi fermati e pochissimi treni. Melito deve essere collegato, così come Logri e Bovalino, deve essere collegato a Reggio. Non è più pensabile che per fare solo 30 km in alcuni giorni dell'anno e in alcune ore ci si debba impegare a oltre un'ora e mezza con la macchina. Noi vogliamo e chiediamo, lo chiedo io e penso tranquillamente di poterlo fare, sono convinto, a nome di tutti i sindici dell'area grecana e di tutti i sindici dell'Aionia. Vogliamo che questa sia una metropolitana di superficie, vogliamo che ci sia almeno un treno ogni ora, che vengono date queste possibilità agli studenti e ai lavoratori. Non è più pensabile e non è più sopportabile questo stato di abbandono che noi dobbiamo sopportare e che i nostri cittadini devono sopportare. Quindi è giunto il momento che tutti assieme facciamo squadra, facciamo rete e facciamo giungere questo messaggio a chi fino ad oggi non ha mai avuto volontà, voglia e orecchie per ascoltare. Per rivendicare condizione di mobilità sostenibile, per rivendicare sul piano pratico la fornitura di treni da mettere a disposizione dei lavoratori, dei pendolari, degli studenti, di quanti ogni mattina devono sudare sette camicie per arrivare da luoghi vicinissimi alla città capoluogo, per arrivare per esempio da Lazzaro, che è la frazione marina del mio comune, fino a Reggio Calabria. Lo si può fare ormai soltanto con la mobilità su gomma, riteniamo invece che per uscire da questa marginalità il treno e le somme e le ingente risorse spese per il raddoppio del binario da Reggio Calabria fino a Melito debbano essere onorati con dei treni dignitosi innanzitutto. Questo è quello che chiediamo insieme, lo chiediamo con forza nei confronti della Regione Calabria che dovrà e speriamo a breve sottoscrivere un accordo con Trenitalia per la fornitura di questi treni e consentirci anche di poter fare del turismo nel momento in cui abbiamo l'esigenza di far portare la gente anche da queste parti. Siamo Europa e siamo anche noi Europa, non siamo una parte dispersa di questo continente, vogliamo essere all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte e ne rivendichiamo con titolo e con dignità, ne rivendichiamo con questa giusta lotta di stamattina. Grazie mille